Nessun comune amministrato dalla Lega Nord aderirà al fallimentare progetto della città metropolitana. Un vero e proprio anatema, quello annunciato via Facebook dal segretario lombardo del carroccio Paolo Grimoldi, che ha fatto sobbalzare quanti avvigevano o credevano di avere già in tasca l'approvazione della regione, a maggioranza centrodestra, per il passaggio a Milano. Il nuovo ente per Grimoldi ha finora mostrato soltanto difetti e limiti. Grimoldi ne ha sia per l'impianto istituzionale, ossia per le regole di funzionamento, sia per il sindaco del capoluogo Beppe Sala, che è anche a capo di città metropolitana. Un intervento che per molti metterà fine all'avventura di Vigevano, anche se il vice sindaco, leghista Andrea Cefa, si mostra ancora fiducioso. Grimoldi dice che nessuna città amministrata della Lega dovrà fare richiesta per entrare in città metropolitana. Vigevano ha già fatto questa richiesta, si è già espresso anche la giunta regionale, condividendo il progetto di Vigevano di entrare in città metropolitana, quindi io credo che l'espressione di Grimoldi sia un'espressione condivisibile dal punto di vista strettamente e squisitamente politico. Noi non siamo particolarmente preoccupati, condividiamo le critiche politiche, però io dividerei il giudizio politico che rimane fortemente negativo sull'amministrazione attuale di città metropolitana, invece dal giudizio istituzionale e di prospettiva. Intanto continua il dibattito su come gestire il momento decisionale sull'eventuale passaggio da Pavia a Milano. Movimento 5 Stelle e Partito Democratico hanno rilanciato l'idea del referendum che però non piace a progetto Vigevano. Ritengo che il referendum sia uno strumento ormai non più necessario. Io ho detto più volte chiaramente che due consigli comunali diversi, votati due volte in modo differente, hanno espresso il parere favorevole alla città metropolitana. I consiglieri comunali sono diretta espressione del popolo, io ritengo che sia sufficiente questa circostanza.